Da vent'anni a servizio delle aziende e del cittadino, ma senza mai legarsi sugli allori. È per questo che grazie a Casanova, titolare di centro ufficio, il negozio affiliato Buffetti in via Puccini a Porcari, in occasione della ricorrenza, ha voluto ampliare l'offerta. È nato così il centro servizi per il cittadino, dove è possibile l'attivazione della firma digitale, dello speed o di una piattaforma per la fatturazione elettronica, ma anche imparare a orientarsi negli adempimenti burocratici e nelle novità tecnologiche, senza il rischio di incorrere in errore. Con questi servizi, soprattutto lo speed, oggi è diventato una cosa fondamentale perché ti puoi collegare alla pubblica amministrazione, non so, all'Inps per vedere quando vai in pensione, oppure all'ufficio delle entrate per vedere la tua posizione, tantissime cose. Allora cosa abbiamo pensato? Chi è che spiega queste cose al cittadino? Chi è che gli dà una mano a esplicare tutte queste cose? Ci siamo guardate, io e Roberta, la mia collaboratrice, lei bravissima, non serve essere convincenti, serve essere chiari, perché ci sono dei passi da fare, che li facciamo noi? Perché abbiamo scelto anche uno slogan, vi si fa tutto noi, perché il cliente non deve pensare a niente. Abbiamo deciso di usare un linguaggio semplice, abbiamo abolito l'inglese perché siamo in Italia e soprattutto il nostro intento è quello di prendere il cliente per mano. Oltre all'ampio assortimento di cancelleria specializzata e al centro stampa, che hanno reso noto il negozio ben oltre i confini del territorio porcarese, nella sede di via Giacom Puccini 1997, è nato anche uno spazio di co-working. Abbiamo allestito questo ufficio che vuole essere molto accogliente, caldo, soprattutto per creare un ambiente familiare, perché questa è una zona altamente industriale e magari c'è qualche persona che ha bisogno di incontrare o per un breve periodo, oppure che non ha il computer, oppure che ha necessità di fare delle stampe proprie per un rispetto della privacy. Ecco, noi mettiamo a disposizione la nostra stanza, con tutti gli accessori che servono sia per lavorare, ma anche per deleziare lo stomaco, dove abbiamo uno snack, abbiamo una macchina che fa tutte le bevande calde e fredde, per cui, ecco, è un'assoluta novità per un centro come Porcari. Al centro ufficio, insomma, il cliente non è un numero, ma una persona con cui intessere relazioni. È lì che ci si può rivolgere per un sopporto a tutto tondo. Il traguardo dei primi vent'anni, infatti, è solo un nuovo inizio, sempre a supporto di cittadini e imprese.